Parliamo dell'umorismo legato ad Agrigento, patria del famoso Pirandello, premio Nobel per la letteratura nel 1934, che pubblicò nel 1908 un meraviglioso corso di lezioni universitarie intitolato l'umorismo, da lui visto come sentimento al contrario. Degli agrigentini diede una brillante definizione umoristica il famoso Empedocle di Agrigento, uno dei più grandi filosofi del mondo antico, che definì così i suoi concittadini. Gli agrigentini mangiano come se dovessero morire il giorno dopo e costruiscono come se non dovessero morire mai, riferendosi al fatto che a tavola si mangiano pure i piedi del tavolino e naturalmente alla magnificenza della Valle dei Templi per quanto riguarda le costruzioni. Ma l'umorismo agrigentino si manifestò anche nei riguardi del nuovo cristianesimo, concentrandosi sulla figura di San Calogero, patrono amatissimo di Agrigento e della provincia. Si creò una rivalità religiosa e così si esprimevano gli abitanti di Naro rispetto a Agrigento e Canicattì. San Caloiru o, come direbbero da Agrigento, San Calorio di Naro, Miracole ne fa un migliaro, senza che era un santo prolifico. San Calorio di Canicattì, Miracole ne fa tri, San Calorio di Girgenti, Miracole non ne fa niente. Immaginate come insorgevano, è vero, gli agrigentini che rispondevano per tutte le rime. San Calorio di Naro, i miracoli fa pe denaro. San Calorio di Girgenti, i miracoli fa pinnenti. San Calorio di Canicattì, ne fece uno e se ne pentì. Coinvolto anche San Calogero di Grotte, di cui si diceva, San Calorio di Grutti non fa miracoli e se ne fotte, qua non c'è bisogno niente di una traduzione. Ah, questi santi! Un esempio recente di umorismo religioso legato al fenomeno del campanilismo è quello di un prete siciliano, padre Salvatore, che viene trasferito a Milano. La prima domenica in cui celebra una messa, fa la sua predica. Allora, fratelli, oggi vi parlerà di Adamo ed Eva. Adamo, bravo picciotto, lavoratore, servo di Dio, siciliano era. Eva, donna del peccato, tentatrice, melanese era. E a questo punto pensate le lamentele dei milanesi. Chiamano il vescovo e il vescovo giustamente chiama il prete e gli raccomanda vivamente di non dare mai più interpretazioni della Bibbia di quel genere. Il prete giura, non si preoccupa, dice il vescovo, è stato più forte di me, rimedierò. La domenica successiva comincia la messa. A proposito, cari fratelli, di queste polemiche, oggi vi dimostrerò l'affetto per i milanesi. Allora vi parlo di Abele e Caino. Abele ci faceva sacrificio a Dio, onesto, picciotto a modo, degno figlio di sua pace. Siciliano era, Caino, traditore, fratitice, adelenquente, melanese era. Inizio che immaginate a Milano scoppia la protesta, la vicenda su tutti i giornali, così il Vaticano interviene facendo sapere che se il prete avesse continuato a discriminare i milanesi lo avrebbero scomunicato. La domenica successiva, la chiesa gremita, un sacco di curiosi giornalisti, padre Salvatore from Sicilia, comincia. Fratelli milanesi, oggi vi parlerò dell'ultima cena e vi dimostrerò una volta per tutte che io non ce l'ho con i milanesi. A un certo punto, durante l'ultima cena, Gesù si alzò e disse, picciotte di bed, voglio dire in verità che uno di voi questa notte mi traderà. Si alzò San Pietro, signoruzzo bed, non sarò per caso io. No Pietro, tu no. A un certo punto si alzò San Giovanni, signoruzzo sarò forse io. No Giovanni, tu no. A un certo punto si alzò Giuda e disse, guarda Gesù, non sarò minga mia. E dopo il mitico padre Salvatore from Sicilia, concludo con un pensiero di Edmondo di Amicis, uno che di cuore se ne intendeva, che nel suo libro Ricordi di un viaggio in Sicilia ha scritto, oh divina Sicilia, quanti italiani che hanno corso il mondo per diletto morirono o moriranno senza averti veduta. Viva la Sicilia.